video unboxing per zen hybrid pro sx fi la versione più deluxe la versione più evoluta tecnologicamente ma le caratteristiche della serie sono sempre quelle cuffie wireless a bassa latenza bassissima latenza grandissima qualità grandissima durata della batteria e queste sx fi hanno pure appunto l'audio olografico esclusivo di creative quindi una feature di più importante un trasmettitore bluetooth wireless ancora più veloce delle altre due versioni insomma la versione migliore costa leggermente di più ma se volete la fascia alta delle zen hybrid pro la versione sx fi è sicuramente quella che dovete acquistare ma allora bando alle ciance o ciancio alle bande come preferite andiamo ad ammazzare la confezione per vedere quello che si trova all'interno della confezione abbiamo già tolto i sigilli per così dire vediamo se viene fuori la confezione eccola qui qui quindi finalmente riusciamo ad ammazzare la confezione da questa parte e andiamo a tirare fuori ogni elemento all'interno della confezione c'è un piccolo vano dove andiamo a trovare il cavo di collegamento usb ca per ammuntarla sostanzialmente per andarla a ricaricare qui abbiamo invece il trasmettitore che è una versione ancora più evoluta della versione delle classic la versione intermedia diciamo della di questo di questo formato ed infine c'è il microfono staccabile che andremo a scoprire poi lo proveremo se è lo stesso del classico o è una versione più evoluta all'interno troviamo anche la guida per il dispositivo troviamo la guida per utilizzare le cuffie e poi troviamo tutte le indicazioni della garanzia e poi ovviamente andiamo a vedere il prodotto principale che viene fornito anche di questa anti umidità quindi arriveranno belle intonze da qualsiasi problema ed eccole qui le cuffie sono molto simili alle classiche ovviamente molto simili eccole qui nella loro left right così non vi potete sbagliare le potete mettere così per coprirle diciamo per poterle portare in maniera portabile eccole potete girarle in questo modo sono ancora più piccole e poi si posizionano in questa maniera si può allargare a seconda della vostra dimensione della testa come potete vedere all'interno sono molto imbottite qui troviamo i vari tasti qui troviamo il collegamento per la ricarica e poi il tasto anc per la per la cancellazione del rumore ibrida ci sono vari generi qui c'è la presa per il microfono eccolo qui quindi il microfono si trova nella parte sinistra si gira la levetta e voi potrete parlare e dire tutte le tavolate che verranno in mente oppure cose intelligenti dipende da voi e andiamo a vedere se si accendono se c'è un minimo di carica per vedere il illuminazione si eccola qui si sono illuminate quindi c'era un po di carica e dopo questa illuminazione che su entrambe i padiglioni potrà essere personalizzata tramite l'app che potete scaricare sia su cellulare sia su pc queste sono le creative sx file bluetooth bassissima latenza qualità enorme estrema e tecnologia esclusiva creative con qualità olografica personalizzata anche in questo caso si personalizza l'audio tramite una tutto questo è disponibile in questo headset che trovate sullo store di creative nella descrizione del video trovate anche in link ciao